adesso adesso dopo il puccino pio è arrivato lo scemo giapponese lì io mi chiedo la gente cos'ha nel cervello la merda c'ha probabilmente allucinante ragazzi io non ci posso credere non è possibile non è possibile cioè vabbè è proprio vero che ognuno ha quello che merita proprio jack